Grazie a tutti. Ben ritrovati cari telespettatori, la Will nazionale ha diffuso i dati sulla Cassa Integrazione, i quali pur registrando un forte decremento delle ore autorizzate rilemano però un record negativo sulla provincia di Alessandria che dopo Torino è la più Cassa Integrata del Piemonte. Alessandra della Cà. I dati sul ricorso alla Cassa Integrazione in provincia di Alessandria nei primi sette mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso evidenziano un calo importante pari a meno 37,9% ma la situazione resta comunque preoccupante. Ricordiamo che Alessandria è la seconda provincia più Cassa Integrata del Piemonte subito dopo Torino. E' questo il commento di Aldo Gregori, segretario Will Alessandria, in riferimento ai dati del settimo rapporto 2017 sulla Cassa Integrazione, suddiviso per macro aree, regioni e province. Dal monitoraggio condotto sui primi sette mesi dell'anno si registra di fatto un forte decremento di ore autorizzate, meno 41,8% che caratterizza tutte e tre le gestioni. Complessivamente sono state autorizzate alle aziende 226,4 milioni, pari a 190.000 posti di lavoro salvaguardati, di cui il 61,7% di Cassa Integrazione straordinaria, con una prevalenza della causale solidarietà. Il decremento maggiore è al nord, meno 49,1%, pur essendo l'area che nei sette mesi assorbe il maggior numero di ore, 101,9 milioni. Inoltre il Piemonte è la regione al terzo posto per richiesta di Cassa Integrazione in Italia dopo Lombardia e Puglia. Il dato quindi, prosegue Gregori nell'analisi, non basta a rassicurarci e a far pensare che l'uscita dalla crisi sia realtà. Anche se è iniziata una timida ripresa, questa purtroppo non riguarda l'occupazione dei lavoratori, ha detto ancora, aspetto per noi prioritario. Tra i settori produttivi, l'industria è quella che continua ad assorbire il maggior numero di ore autorizzate. Il report Will sottolinea poi come il mese di luglio abbia visto un'improvviso impennata delle richieste di ore di Cassa Integrazione rispetto al mese precedente, con un più 27,1%, vistosa la crescita della straordinaria, al contrario della Cassa Ordinaria e di quell'inderoga. Questi aumenti, se confermati nei prossimi mesi, dice il sindacato, confermerebbero come, nonostante la crescita costante ma lenta dell'economia, non si possono escludere possibili processi di ristrutturazione aziendale, come attestato appunto dall'utilizzo della Cassa Straordinaria. Volevo uccidermi, questa è la tesi del Valenzano, 59enne, che ha dato fuoco al proprio alloggio, rischiando di fare una strage. L'arresto è stato convalidato, quindi arresta in carcere e quasi certamente sarà sottoposto a perizia psichiatrica. All'uomo viene anche contestata la strage, un reato di gravità eccezionale. In effetti lui voleva che morissero più persone possibili. Emma Camagna Convalidato l'arresto, e le accuse sono molto gravi, incendio doloso e duplice tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione, di Sabino Sanna, 59 anni, Valenza, che l'altro giorno ha distrutto col fuoco il proprio alloggio, non possiede manco più uno spillo e ha sparso benzina ovunque rischiando di fare una vera e propria strage. E' quasi certo che il difensore Giulia Boccassi chiederà per lui una perizia psichiatrica, accertare in sostanza se quest'uomo, al momento del folle gesto che poteva causare vittime, era o meno fuori di testa. Lui si è salvato, si è salvata anche la Cagnetta, unica sua compagna di vita, ma gli inquilini dello stabile teatro della tragedia hanno corso un rischio enorme. L'ho fatto perché volevo uccidermi, è l'attesa dell'uomo con un passato da pugile, una pensione molto modesta e l'animo dilagnato da rancori, non si sa fino a che punto giustificabili, nei confronti dei vicini, ma soprattutto del padrone di casa Pietro Cesare Vairelli, recattosi come sempre nel suo alloggio per riscuotere l'affitto. Tuttavia pare che non sia stato il versamento della pigione ad aver acceso il fiammifero disfattista dell'inquilino. Volevo farla finita, ha ripetuto il suo legale, ma esattamente perché? Difficile scavare nell'animo umano, certo è che aveva deciso da qualche tempo quel gesto procurandosi confezioni di benzina. La convivenza con i vicini o con alcuni di loro non era certo delle migliori, perché, ed è davvero così, restano molti interrogativi da sciogliere in questa triste vicenda. Andrea Zito, il magistrato della procura di Alessandria, titolare dell'inchiesta, interrogerà a giorni anche il padrone di casa Vairelli e la vicina Antonietta Sinopoli. E' contro di loro che s'hanno gettato il liquido infiammabile urlando vi uccido. Definita con la morte di un 34enne la furiosa lite sfociata ieri sera davanti a un pub in via di Nanni a Torino, protagonisti due marocchini che pare per futili motivi hanno iniziato a litigare. A un certo punto uno dei due, che ha 40 anni, ha colpito la vittima con un coccio di vetro, sgozzandolo. L'uomo, portato in fin di vita all'ospedale Maria Vittoria, è morto questa mattina. A individuare l'aggressore sono state le numerose testimonianze che hanno assistito alla lite. Le indagini sono in corso da parte della squadra mobile e del commissariato San Paolo di Torino. Tre a giudizio per un operaio folgorato a Tassarolo nel Novese. L'infortunio era avvenuto nel maggio del 2013. Novruci, operaio albanese di 45 anni, abitante ad Acqui. Il 9 maggio 2013 morì a Tassarolo, folgorato su un tralizio dell'Enel e via Sant'Ambrogio. Dopo oltre quattro anni vanno a processo tre persone imputate di concorsi in omicidio colposo. Sono Luca Raimondo, responsabile della macro, area territoriale nord-ovest della società Enel Distribuzione, committente dei lavori in cui era impegnata la vittima. Claudio Sura, legale rappresentante della ditta Boetti, incaricata di effettuare l'intervento e datore di lavoro di Rucci. Angello Castro Giovanni alle dipendenze della Boetti e al quale era stato affidato il compito di coordinare l'intervento. Raimondo ha scelto giudizio ordinario, sarà processato in data non ancora fissata. Sura e Castro Giovanni hanno ottenuto l'abbreviato condizionato all'esito di una perizia tecnica che verrà depositata qualche giorno prima dell'udienza preliminare fissata davanti al gruppo il 10 novembre. L'esame peritale ricostruirà nei dettagli le modalità dell'infortunio. La magistratura contesta ai tre un comportamento negligente, ognuno in base al proprio ruolo, nel predisporre il lavoro affidato all'operaio. Consisteva nel sostituire un cavo elettrico della bassa tensione sulla linea elettrica di Tassarolo perché l'Enel aveva constatato una dispersione di energia. A questo punto bisognava fare una riparazione effettuata senza mezzi di protezione adeguati e senza precauzioni adeguate. Il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco non concorrerà per l'elezione alla nomina di presidente della provincia. Lo fa sapere in una nota nella quale evidenzia che la carica da primo cittadino contempla un impegno a tempo pieno. Per questo motivo, scrive Cuttica di Revigliasco, pur grato a coloro che auspicavano una mia candidatura, ritengo che sia più opportuno che questo particolare servizio e disponibilità sia richiesto e affidato a sindaci di comuni che abbiano dimensioni medio-piccole e comunque più contenute di quelle del capoluogo provinciale. Ci sono infatti i primi cittadini competenti e appassionati alla res pubblica, presenti e operativi in tanti comuni alessandrini, che possono avere più disponibilità di tempo per curare gli interessi dell'intero territorio provinciale, scrive ancora il primo cittadino di Alessandria, apportando quella sensibilità, attenzione e pratica che consenta di valorizzare non solo le realtà territoriali di grandi dimensioni, ma anche le numerose piccole realtà che costituiscono con le proprie comunità locali la forza della nostra provincia. In quest'ottica, Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha segnalato come idoneo a rivestire l'incarico provinciale, il sindaco di Cassine Gianfranco Baldi, sindaco, fa sapere ancora Cuttica, competente e stimato. Restiamo in tema di amministrazioni pubbliche, perché sono sempre di più i comuni a rischio dissesto e predissesto. In Comune la situazione è molto critica per la provincia di Asti e per il Comune di Torino. A guardare i soldi che arrivano a gettito continuo ai comuni si rimane un po' basiti di fronte al disperato bisogno di entrate che ogni amministrazione italiana reclama. Lo Stato eroga contributi pro capite, vale a dire in base al numero di abitanti di ogni città, che sono pari, cifra più, cifra meno, al 40% delle entrate totali. Poi ci sono quelle dei servizi pubblici, cioè quelle di acqua, luce e gas, ma anche del trasporto pubblico e raccolta rifiuti. E infine, ultimi in ordine, i contributi sempre erogati dallo Stato per ciascun migrante che ogni singola amministrazione ospita nel proprio territorio. Conti alla mano, per chi non mastica di bilanci, appaiono un sacco di soldi, ma così non è, perché continuano a crescere i comuni in dissesto o in predissesto. Una situazione critica che si è riversa sui servizi erogati alla cittadinanza e sulle tasse, tarate alle stelle a causa dei severi piani di riequilibrio pluriennale imposto dalla Corte dei Conti, che vigila con il fiato sul collo. La situazione è la stessa da nord a sud, con i sindaci costretti a una continua movimentazione a incastro per riuscire almeno a garantire i servizi necessari. Colpa di passate amministrazioni spendaccione che hanno accumulato montagne di debiti nell'intento di lasciare un buon ricordo di sé trasferendo poi i grattacapi a chi arrivava dopo di loro. Colpa di un governo centrale che nel tempo non ha saputo limitare i danni con controlli speculari. Colpa di chi era preposto a salvare dalla bancarotta molte amministrazioni che oggi sono a un passo dal dissesto. Cinque anni fa l'allora sindaco di Alessandria, Rita Rossa, si era presa la responsabilità per niente popolare di dire basta dichiarando lei il dissesto per cercare di riequilibrare un bilancio finito sempre più in rosso. Una decisione che se da una parte ha fatto bene ai conti pubblici, dall'altra ha necessariamente dovuto congelare moltissime attività di ordinaria amministrazione. Una scelta che ha pesato poi nella sua non rielezione, ma che lei ha sempre sostenuto a testa alta. Ma di primi cittadini che si appellano al dissesto non ce ne sono e tutti stanno attuando comportamenti virtuosi per non cadere nel baratro. In Piemonte la situazione è molto critica per la provincia di Asti e per la città di Torino. Qui l'ombra del predissesto si sta allargando sempre di più. Entro la fine del mese l'amministrazione di Chiara Appendino dovrà presentare alla Corte dei Conti un piano dettagliato che spieghi come intende a rimettere a posto i bilanci e due volte all'anno sarà anche costretta a redigere un report che indichi lo stato dell'arte. La Giunta 5 Stelle sarà costretta anche a rivedere molte spese correnti oltre all'alienazione di quote in società in cui ha partecipazione perché l'alternativa è tagliare 200 milioni in un anno che andrebbero pesantemente a ripercuotersi su servizi ai cittadini. Nuovi lavori di ampliamento lungo la provinciale 35 Terra che collega Novi Ligure a Serravalle Scrivia. Ce ne parla di questo Enrico Mariano. Ai nastri di partenza nel Novese i cantieri per costruire il ramo trasversale della 35 Terra. Il nuovo collegamento metterà in comunicazione diretta l'attuale 35 Terra con l'importante e ampia area commerciale che trova la sua collocazione nel comune di Serravalle Scrivia e che ogni giorno vede centinaia di visitatori che poi si trasformano in migliaia nel fine settimana. I cantieri sono stati affidati alla ditta Fratelli Boggeri dalla Aedes, la società immobiliare quotata in borsa che si è detta pronta ad ampliare ancora il retail park aggiungendo alla planimetria già esistente un nuovo lotto. Lo snodo che si andrà a costruire avrà una lunghezza di circa 600 metri e sarà situato alla metà della 35 Terra con una delle rotatorie dell'outlet, per la precisione quella all'altezza dei magazzini della Sogegros. Da qui le auto avranno la possibilità di proseguire in direzione della statale 35 Bis grazie all'ausilio della rotatoria intitolata Cersecoppi. I lavori interesseranno quindi una zona interamente facente parte del comune di Serravalle. Un dato in discrepanza con il progetto originale che vedeva i lavori spingersi sino alla cascina barbellotta. Il piano fu cambiato nel 2011 su impegno dell'allora sindaco di Novi Ligure Lorenzo Robbiano. La 35 Terra poi vide la sua inaugurazione nel febbraio del 2014. E tra poco la linea passerà a De De Vinci per la pagina sportiva. Proseguono gli allenamenti dell'Alessandria a calcio in vista della partita di domenica in trasferta contro il Pro Piacenza. Gli allenamenti vengono fatti come sempre allo stadio Michelin di Spinetta Marengo e oggi subito dopo ha parlato in conferenza stampa Pablo González. Lo sentiremo tra poco, subito dopo le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito e arrivederci.